Quale futuro immediato per le valdarnesi di eccellenza? Non è ancora terminata ufficialmente l'annata 2012-2013, ben lo sa la Sangio che spera nella Prodo in Serie D, ma le rappresentanti certe della massima categoria regionale per la nuova stagione sono comunque destinate a far parlare di sé per voci che si rincorrono in relazioni ad eventuali nuovi obiettivi. Le certezze vengono apparentemente solo dalla Castelnovese che, confermato Rigucci, trainer, non dovrebbe dedicarsi a particolari spese in estate per allestire una squadra destinata poi al semplice obiettivo della salvezza. Maggiori incognite invece nel valdarno fiorentino. Dopo una stagione fallimentare, con spese eccessive, pochi ricavi e soddisfazioni, in casa Fiellini è tutto tace, ma pensare alla conferma della Rosa che ha concluso l'anno appare difficile ed oltretutto Federico Mori ed Emiliano Frediani hanno anche una primavera in più nelle gambe. A Regnanto tutto ruota attorno alle decisioni del patron Bacci. C'è chi lo dà per partente per Luca, chi pensa ad un ridimensionamento importante a livello economico verso il basso. Del resto, anche qui, le spese affrontate non sono state pari poi alle soddisfazioni ottenute, visto che anche i play-off sono poi sfumati. Qualche nube, dunque, si presenta all'orizzonte, mentre il valdarno spera nell'arrivo in categoria della Bucinese, che di ambizioni certo non ne risparmia e, perché no, anche dell'uscita per la succitata Sangio a seguito di promozione.